Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 118esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source delle ultime settimane. Apriamo questa puntata parlando di suite d'ufficio grazie al rilascio della nuova versione di LibreOffice. La community che sta dietro LibreOffice ha infatti annunciato il rilascio di LibreOffice 7.3. Questa nuova major release della famosa suite open source per ufficio, multiplattaforma e gratuita, va a introdurre diversi miglioramenti che vanno a migliorare l'interoperabilità nella gestione, nello scambio, nell'apertura di file. In formato proprietario Microsoft Office. Tre sono principalmente le modifiche che sono state apportate per migliorare l'interoperabilità. La prima riguarda una nuova gestione del tracciamento delle modifiche nelle tabelle e nel testo che va a impattare positivamente appunto sull'interoperabilità con i documenti Microsoft Office. Abbiamo poi dei miglioramenti nelle prestazioni, nell'apertura di file di grandi dimensioni in formato docx, xlsx e oltre a velocità di rendering migliorate per quanto riguarda sempre l'apertura di documenti complessi. Infine abbiamo un miglioramento dei fit di importazione e esportazione in tutti e tre i formati principali Microsoft proprietari. Quindi docx, xlsx e pptx. Su Marcosbox poi trovate maggiori informazioni al riguardo. E che dire, sono contento di queste migliorie e di questi miglioramenti che sono stati apportati. Perché se siete come me costretti a lavorare con file provenienti da salvati informati proprietari, sapete bene che la cosa più importante in questi casi è avere a disposizione una suite d'ufficio in grado di non andare a sminchiare il file di origine. E quindi ben vengano tutti questi miglioramenti che il team di LibreOffice sta continuando a portare al codice di LibreOffice al fine di garantire, si spera in futuro, una interoperabilità al 100% con i formati proprietari Microsoft. Torniamo adesso a parlare di System76 che ha annunciato una nuova utility per migliorare l'esperienza desktop su Linux. L'utilizzo in questione si chiama System76 Scheduler ed è un demone scritto in Rust il cui scopo è quello di migliorare la reattività del desktop andando a ottimizzare lo scheduler della CPU assegnando automaticamente le priorità di processo. Praticamente i processi vengono controllati regolarmente e vengono assegnati priorità di processo in base all'opportunità di configurazione. Se combinati con PopoShell ai processi in primo piano e ai relativi sottoprocessi, vi era assegnato una priorità di processo più elevata. E queste modifiche si traducono in un notevole miglioramento della fluidità delle prestazioni sia in applicazioni che nei giochi. La migliore reattività dell'applicazione è più evidente sui vecchi sistemi con hardware economico, mentre i giochi trarranno vantaggio da framerate più elevati ed un jitter ridotto. Questa è una modifica davvero interessante che è stata introdotta su PopoS e che si spera verrà migrata successivamente anche su altre distribuzioni che fanno utilizzo di Gnome, ma anche altre distro con altri desktop environment. Comunque, maggiori informazioni vi potete trovare nell'articolo che ho pubblicato su Marcosbox, dove troverete anche il link alla pagina Github dove è possibile consultare il codice sorgente di System76 Scheduler, che speriamo, come dicevo prima, venga portato, queste modifiche vengono portate anche su altre distro, anche su altri desktop environment. Passiamo adesso a parlare del mio desktop environment preferito, ovvero KDE. La community di KDE ha pubblicato la versione 5.24 di KDE Plasma. Si tratta della nuova versione LTS di KDE Plasma, questo significa supporto esteso, e questa nuova versione riceverà aggiornamenti e correzioni di bug sino alla versione finale di Plasma 5 prima del passaggio a Plasma 6, quindi la vedremo per un bel po' di tempo. Questo nuovo rilascio si concentra principalmente sull'appianamento delle rughe, diciamo così, quindi evoluzione del design, miglioramento della sensazione generale e dell'usabilità di KDE Plasma. Le modifiche estetiche riguardano principalmente il tema Breeze, che adesso è stato migliorato e ha guadagnato ad esempio la possibilità di personalizzare gli accenti con qualsiasi colore noi desideriamo. E' carina la possibilità appunto di cambiare l'accento del colore, per esempio ci preferiamo il giallo come colore, andiamo a impostare il giallo all'interno del tema Breeze e questa si ripercuoterà non solo sugli accenti dei menu e di quant'altro, ma andiamo ad esempio a cambiare anche il colore delle cartelle, quindi ci dà la possibilità di avere un look come più ci aggrada, quindi così come sta succedendo anche con altri desktop environment che hanno introdotto nel corso degli anni queste funzionalità. Gli elementi che abbiamo riguardano ad esempio la gestione delle notifiche, che adesso sono più facilmente leggibili e sono state introdotte ad esempio alcune modifiche che riguardano l'aspetto delle notifiche critiche, che adesso per esempio hanno una striscia arancione sul lato per rendere più distinguibili dallo sfondo e dalle altre notifiche. Sono stati fatti dei miglioramenti in diversi widget che adesso hanno ricevuto nuove funzionalità e miglioramenti che ne migliorano l'aspetto, la pertinenza delle informazioni e la facilità di navigazione. Migliorate inoltre la gestione delle impostazioni di sistema con modifiche atte a rendere le impostazioni di sistema più facili e veloci da utilizzare. Poi è stato fatto anche un lavoro di ottimizzazione davvero importante. Se da parecchio che non provate KDE Plasma, la cosa che vi stupirà con questa nuova versione è ad esempio la velocità di caricamento di alcune applicazioni, del file manager, la velocità dello spegnimento, ma anche la velocità dell'apertura delle impostazioni di sistema. Prima le impostazioni di sistema, anche con SSD, ci passava qualche secondino prima che si aprisse le impostazioni di sistema, adesso l'apertura è immediata. Quindi il team di KDE ha migliorato in tutto il proprio desktop environment e vi dico, fateci un salto, provatelo, magari scaricatevi KDE Neon in modo da avere una base LTS di Ubuntu con KDE Plasma e tutto il cucuzzaro sempre aggiornato e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ve lo dico, vi innamorerete di KDE Plasma. Nel corso delle settimane che ci hanno separato dal precedente episodio, diverse distribuzioni si sono aggiornate, ma due meritano senza un po' di dubbio di essere citate. La prima è Pepperminto S, che ha visto il rilascio della versione 11 dopo ben tre anni di sviluppo. Come ben ricorderete, lo scorso gennaio 2020 è venuto a mancare Mark Greaves, il fondatore e sviluppatore principale di Pepperminto S. Dopo la morte del fondatore della distro, gli sviluppatori di Pepperminto S si sono riuniti e alla fine hanno deciso di continuare a portare avanti la distribuzione facendola evolvere e andando a incorporare le idee su cui Mark stava lavorando. Il frutto del lavoro della comunità degli sviluppatori di Peppermint si è concretizzato nel rilascio di Pepperminto S11, che va a introdurre diverse novità. Due comunque sono quelle principali. La prima riguarda l'abbandono della base Ubuntu per passare a Debian come base, nella fattispecie in questo caso a Debian 11. L'altra scelta riguarda quella di abbandonare LXDE in favore di XFCE. Ma le novità non si fermano a questo. Cioè è stato il rilascio di una nuova versione dell'applicazione Welcome to Peppermint, che ci consente di personalizzare rapidamente Peppermint andando a installare programmi aggiuntivi, ma anche andando a scegliere il nostro browser preferito, perché nella fase iniziale ci viene chiesto quale browser vogliamo andare a installare. È stato aggiunto un nuovo Peppermint Hub che va a combinare Peppermint Settings e Control Center per la gestione del nostro sistema. È stato aggiunto poi H-Block che è un AD-Blocker basato sul terminale che può essere abilitato o disabilitato in qualsiasi momento e quindi va a impostare un AD-Block globale. E poi ci sono state fatte alcune miglioramenti quali RAR con l'aggiunta di nuove applicazioni, con Calamares che va a sostituire Ubiquity per l'installazione di sistema. Questa era una cosa ovvia perché c'è stato il cambio di base, Ubiquity era quello, e anzi è l'installer che viene utilizzato su Ubuntu, mentre Calamares è quell'installer grafico distroagnostico che troviamo su tantissime distribuzioni, come ad esempio mi vende a pensare Mangiaro. E l'ultima novità, poi degna di nota, di questa nuova versione di Peppermint OS, riguarda Nemo che è stato scelto come file manager predefinito, quindi nonostante abbiamo XFCE alla versione 4.16.2 come desktop environment predefinito, non abbiamo Tunar che è il file manager di XFCE, ma abbiamo Nemo, quindi gli sviluppatori della distro hanno deciso di mettere un file manager un po' più evoluto rispetto a Tunar. L'altra distro che merita di essere citata è Slackware. Dopo ben 6 anni dall'ultimo rilascio è giunta finalmente fra di noi Slackware 15.0, la nuova versione stabile della distribuzione più longeva ancora in sviluppo. La prima versione di Slackware risale addirittura al 1993. Ad alimentare Slackware 15.0 troviamo il kernel Linux 5.15 che introduce aggiornamenti come il supporto del driver NTFS, miglioramenti per i processori sia Intel che AMD, supporto iniziale per i processori Intel di dodicesima generazione e supporto iniziale anche per i processori Apple M1. Gli utenti amanti di KDE possono beneficiare di KDE Plasma 25.0 anniversario, quindi KDE Plasma 5.23, che offre diversi miglioramenti sotto eccofano e anche diversi miglioramenti estetici, nonché il supporto per le sessioni Weirand. Per maggiori informazioni su questa nuova versione di Slackware vi rimando all'articolo che ho pubblicato su Marcosbox, dove troverete il link all'annuncio ufficiale e alle note di rilascio, dove troverete anche poi un elenco di tutti i pacchetti inclusi che non guasta mai. Che tanto lo so che voi andate a spucciare, andate a vedere tutte queste cosine da veri nerd. Concludiamo questa puntata con una buona notizia per tutti quanti quegli sperimentatori, modder, produttori di accessori, ma anche persone che vorranno realizzare delle stampe 3D dello Steam Deck per poterlo toccare con mano. Valve ha rilasciato i file CAD per la struttura esterna di Steam Deck e sono stati rilasciati sotto licenza Creative Commons. Il repository include un modello STP e uno STL e i disegni in formato DVG come riferimenti. O meglio, attualmente non c'è il DVG vero e proprio, ma c'è soltanto un PDF che comunque può essere utilizzato come reference per poterlo sviluppare in formato CAD. Se volete maggiori informazioni andate sul link che trovate su Marcosbox, dove trovate appunto il link al repository, dove trovate tutti quanti gli schemi. Ed è una cosa davvero simpatica e carina fatta da Valve che ci sta tenendo sulle spine con questo nuovo prodotto e ci sta centellinando le informazioni, ci sta dando qualche contentino un po' alla volta. Speriamo, speriamo che decogli. Anche perché ho visto alcune recensioni, alcune anteprime che sono state fatte da alcuni canali youtuber americani, come ad esempio Linux Tech Tip, che mostrano davvero che il prodotto vale. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui, questa 118esima puntata del podcast di Marcosbox. Come sempre vi ricordo che potete trovarmi su tutte e quante le piattaforme social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, mi potete seguire su YouTube, mi potete seguire sui vari servizi streaming per il podcasting, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, c'è la skin per Alexa, insomma, mi trovate praticamente ovunque. Vi ricordo infine che potete seguirmi utilizzando Telegram, è presente un canale ufficiale di Marcosbox che potete utilizzare come feed per le notizie, è presente il canale della community Telegram di Marcosbox al quale vi invito a iscrivervi per poter scambiare opinioni, scambiare quattro chiacchiere anche su argomenti non legati al mondo Linux, quindi c'è la possibilità di dialogare praticamente su qualsiasi cosa, sul canale Telegram di Marcosbox, sulla community Telegram di Marcosbox, e infine vi ricordo che è presente anche un canale Telegram dedicato alle offerte su Amazon, grazie al quale potete supportare il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, e ci riascoltiamo la prossima settimana forse, con la prossima puntata del Podcast di Marcosbox. Ciao ciao!